Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecomo Piemonte. Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi sono qui per parlarvi dell'attività che il difensore civico regionale svolge, quale garante del divieto di discriminazione e del principio di pari opportunità tra le persone. Bisogna sapere innanzitutto che lo Statuto della Regione Piemonte all'articolo 90 ha definito il difensore civico un'autorità di garanzia della buona amministrazione degli uffici regionali nei confronti dei cittadini. Sulla base delle leggi regionali numero 50 del 1981 e numero 47 del 1985, il difensore civico svolge quindi un'attività rivolta alla tutela della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Pertanto i principali settori in cui il difensore civico opera sono quelli riconducibili alle materie di competenza regionale, tra cui spiccano la sanità e l'assistenza, con particolare riguardo ai delicati temi della continuità assistenziale per le persone anziane e le persone non autosufficienti. Inoltre, negli anni 90, il legislatore statale ha attribuito al difensore civico anche il compito di intervenire nei confronti degli uffici statali, facenti parte delle cosiddette autorità periferiche dello Stato. In tutti questi casi, il difensore civico svolge funzioni e compiti di informazione, richiesta, proposta e sollecitazione nei confronti degli uffici per garantire la buona amministrazione nell'interesse generale della cittadinanza. Sempre nell'ottica di garantire l'interesse alla buona amministrazione, il difensore civico interviene anche nei casi di discriminazione. Ma che cos'è una discriminazione? Secondo l'articolo 3 della nostra Costituzione, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Perciò ci troviamo di fronte ad una discriminazione in due ipotesi. La prima, quando una persona, a causa del sesso, del colore della pelle, della lingua, della religione, delle condizioni personali, delle opinioni politiche, della disabilità, dell'orientamento sessuale viene trattata in modo meno favorevole di quanto sia stata, o sarebbe trattata, un'altra persona in una situazione analoga. La seconda, quando una persona, a causa di un comportamento o di una prassi, che non tengono conto della sua particolare condizione legata alla lingua, all'età, alla disabilità, al colore della pelle o alla religione, viene messa in una condizione di svantaggio. La Regione Piemonte, nel marzo del 2016, ha introdotto una legge per contrastare la discriminazione. Ha previsto che, in questi casi, il difensore civico intervenga per esercitare quelle stesse funzioni di richiesta, proposta e sollecitazione. Il legislatore ha anche previsto che il difensore civico intervenga per rilevare disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con il divieto di discriminazione. Naturalmente, affinché il difensore civico possa intervenire, il comportamento discriminatorio deve essere stato posto in essere da un ente pubblico. Per ogni altra informazione relativa all'attività del difensore civico, vi invitiamo a consultare la pagina web del Consiglio regionale www.cr.piemonte.it Sono Bruno Mellano, sono il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte. Il garante dei detenuti, ma non solo. Sono qui per una trasmissione che ha il titolo In carcere con il virus. Ovviamente, in questa fase, tutti parliamo di coronavirus, di pandemie, di rischi contagi. Però davvero, con il cuore, chiedo a tutti di pensare che cosa è stato questo periodo in cui alla detenzione normale, nelle nostre tragiche carceri denunciate e condannate dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, cosa possa essere stato il vincolo del virus, la paura del virus, la paura del contagio, in un posto dove la separazione, il distanziamento sociale è impossibile e dove le misure di prevenzione sono state davvero molto difficoltose. Quindi parlare di coronavirus in carcere è parlare di una situazione, di una pagina difficile, complicata dell'amministrazione penitenziaria, ma anche dell'amministrazione regionale perché, come sappiamo, da oltre 12 anni la sanità penitenziaria è di specifica, completa competenza della Regione Piemonte e del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. Abbiamo avuto fortuna. Abbiamo avuto fortuna perché, come è successo in altri contesti chiusi, si poteva rischiare davvero le catombe. Non sempre i detenuti sono giovani, in salute, con, diciamo, risorse personali e umane importanti. Abbiamo molti che sono tossicodipendenti o legati ad una vita di clandestinità. Abbiamo persone anziane, abbiamo persone con pluri patologie. Se n'è parlato, se n'è parlato quando dal carcere è emerso un grido di dolore, di allarme, nel modo sbagliato. È emerso con delle rivolte che hanno toccato molte carceri italiane, per fortuna solo parzialmente le carceri piemontesi. Abbiamo avuto qualche problema di sicurezza ad Alessandria San Michele, ad Alessandria Don Soria, dei due istituti alessandrini e anche qualche forte dibattito e confronto nel carcere di Torino. Ma complessivamente è stata gestita con, diciamo, consapevolezza dall'amministrazione penitenziaria, dall'amministrazione sanitaria e anche, devo dire, dai garanti questa situazione di crisi. La paura, la paura del contagio, la paura della malattia, il distanziamento fisico dai parenti di cui sono state subito vietate le visite e quindi il contatto che si è ancora oltremodo reso difficile. Abbiamo avuto a Torino 78 casi positivi, abbiamo avuto a Saluzzo 26 casi positivi, abbiamo avuto ad Alessandria Don Soria 4 casi positivi fra i detenuti. Ma anche gli agenti, ovviamente, sono stati contattati, anche il personale amministrativo, gli operatori. A livello nazionale abbiamo riscontrato 287 casi di detenuti positivi e oltre 200 agenti. Questo per dare il senso di una misura, perché all'interno delle comunità chiuse, all'inizio soprattutto, si era pensato che fossero anche comunità particolarmente protette. Ma sapevamo, lo sappiamo, che il carcere è chiuso su tre lati su quattro. C'è un lato, quello degli agenti, degli operatori che entrano ed escono dal carcere. E questo ha creato difficoltà, ha creato problemi, ha creato tensioni. Allora, parlare di carcere oggi è anche dire che le leggi e le norme straordinarie avevano chiesto un intervento di facilitazione della domiciliazione degli arresti domiciliari per alcune fasce di detenuti particolarmente a rischio, gli anziani, i pluripatologici, ma anche le mamme con bambini. Noi abbiamo ancora, per esempio a Torino, otto mamme con nove bambini che sono in attesa di una destinazione più familiare dove la detenzione è una condanna per la mamma, ma anche per i figli minori. Allora, parlare di virus vuole anche dire parlare di come si è in qualche modo reagito ad un'emergenza con norme straordinarie, con interventi straordinari, con iniziative innovative, le videochiamate al posto dei colloqui di persona. Questo ci porta a dire che dobbiamo continuare su questa strada, aprendo progressivamente il carcere, ancora di più, con i volontari, con gli avvocati, con i garanti, ma soprattutto con la società civile che deve farsi carico di questo gruppo di persone perché l'interesse è collettivo. La pena deve essere utile alla rieducazione e al rinserimento. Non si va in carcere perché puniti, si va in carcere per poter recuperare e reinserirsi. Nuto Revelli è stato un protagonista della lotta di liberazione dell'Italia dal nazifascismo, è stato un testimone della guerra in Russia perché è stato prima alpino in Russia e poi partigiano tra le file di giustizia e libertà ed è stato un ricercatore della memoria contadina con i suoi libri Il mondo dei vinti e L'anello forte, dedicati appunto alle interviste raccolte tra gli anni 60 e gli anni 80 agli ultimi abitanti delle valli cunesi in spopolamento. Nel 2019 si è celebrato il centenario della nascita, è stato istituito un comitato nazionale promosso dalla Fondazione Notore Velli e il Ministero dei beni culturali ne ha autorizzato le attività celebrative fino a tutto il 2021. Alla Fondazione della Maison des Sciences de l'Homme a Parigi, in Boulevard Raspail, si aprirà la mostra fotografica Ricordati di non dimenticare, Notore Velli è una vita per immagini. Si tratta di oltre 180 fotografie raccolte e curate da Paola Agosti e Alessandra De Michelis che inaugurano appunto questa storia attraverso le fotografie dell'archivio della Fondazione Notore Velli, dell'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo e di altri enti. La storia della vita di Notore Velli ripercorre la storia di un secolo che è quello a cavallo tra il 900 e il XXI secolo, un secolo di grandi trasformazioni, un secolo in cui gli accadimenti storici hanno molto mutato la compagine sociale e anche territoriale di Cuneo e del Piemonte e la lotta per la libertà durante la Seconda Guerra Mondiale è stato un obiettivo per Notore Velli appunto che ne ha fatto un obiettivo di vita quello di raccontare ai giovani soprattutto perché non dimenticassero. Si tratta dunque di una grande iniziativa che è volta proprio attraverso la figura di Notore Velli a raccontare per immagini la vita di una regione come quella del Piemonte, di una città come quella di Cuneo e di una generazione che è appunto stata la generazione del lettorio che si è trovata a dover scegliere, a dover fare una scelta importante e quella appunto della lotta per la libertà. Quindi diciamo che le celebrazioni di Notore Velli si concluderanno nel 2021 con questa grande iniziativa iconografica. La Cunclica di Notore Velli si è trovata iniziativa e la Biemonte, di un'altra generazione di Notori Velli. Guarda la gente la guarda sbalorddìa la voce alla tipa parla soffrazione a parsa festa l'è mai finìa un sbala un smaccia in continuazione la banda la suona una bella melodia di tutti chi canti la madema canzone. Ho deciso di inventarci un evento che rappresentasse gli asinelli ed è nato così il Paglio di Varzo. Cos'è il Paglio di Varzo? È una gara tra agglomerati di frazioni. Varzo è un paese con 54 frazioni, le abbiamo riunite in 10 rioni ed è nata questa manifestazione. Le squadre sono formate dal cuore, che sono i corridori, sono 6 corridori più uno viene portato sulla portantina, accompagnati da un loro sindaco e da un loro portavessillo. La gara, per spiegarla proprio in poche parole, si corre su un circuito all'interno del paese, una partenza molto faticosa, sono 300 metri, dove tutte le squadre partono con 4 concorrenti. Arrivati sulla parte piana, quindi nel centro del paese, ogni squadra può decidere come organizzare la propria gara. Obbligo e regola è di appoggiare la barella davanti alla propria bandiera e quindi si parte, quindi ci sono squadre che decidono di cambiare tutti e quattro i corridori e quindi a correre con due o tre corridori, quel che si voglia. Regola principale è che i partecipanti indossano un cappello con delle lunghe orecchie. Queste orecchie d'asino devono essere portate fino al traguardo, altrimenti la squadra viene eliminata. Si fanno tre giri del circuito, il vincitore si aggiudica al paglio. Nostra regola è che l'Illarione, che per 5 anni vince il paglio, se lo tiene per sempre e quindi ci sarà di nuovo la elezione, la scelta di un nuovo paglio e di un nuovo simbolo. Il tutto finisce, è una gara che dura all'incirca dai 5 ai 6 minuti, perché il percorso è un chilometro abbondante. Il tutto poi finisce all'interno di una grossa tecnostruttura, dove tutto il paese, ma veramente tutto il paese, si ritrova per festeggiare. Di conseguenza la sera ci sono i sfottò, c'è la presa in giro, che dura per circa una settimana, dopodiché nel paese torna la vita normale. Questa manifestazione è inserita all'interno comunque di una festa che dura ben 12 giorni, organizzata dalla Proloco Locale ed è denominata l'Aprile Varzese. Tendo a precisare, tra le altre cose che me l'ho dimenticato di dirlo, che questa gara viene trasportato appunto un personaggio su una barella e queste barelle hanno un peso che varia dai 91 ai 100 kg. La scelta del peso è dovuta alla fortuna, nel senso che al giovedì sera, prima della manifestazione, c'è una gara in piano dove si trasporta una barella di circa 60 kg e le squadre partecipano con due atleti. A scalare dal primo al secondo c'è la scelta per estrazione del peso e la scelta della griglia di partenza, perché la partenza viene fatta in maniera obliqua. Di conseguenza le squadre che possono scegliere la parte centrale sono sicuramente poi favorite. Io concludo dicendo appunto che il nostro è un paglio animalista. Per il momento siamo i primi ideatori, ma non solo in Italia, in tutta Europa non esiste un paglio pari al nostro. Di conseguenza noi invitiamo tutti, ma veramente tutti gli ascoltatori, a partecipare a Varzo il giorno 25 aprile 2021 alla 14esima edizione del paglio di Varzo. Il divertimento è assicurato, abbiamo la sfilata dei Rioni che sarà comunque già una cosa spettacolare da vedersi, e comunque chi verrà a Varzo si ricordi che partecipa ad un evento unico, sicuramente in Italia, ma continua a insistere anche in tutta Europa. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Virginie Rabito, sono un'antropologa specializzata in antropologia medica, e da due anni lavoro con Aspicollus, ho la fortuna di lavorare con loro. Aspicollus è un'associazione, il cui acronimo vuol dire associazione, studio paziente immunocompromesso, e nasce nel 1997 per volere di alcuni medici dell'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale Medo di Savoia. In quegli anni purtroppo vi è stato un incremento di malattie sessualmente trasmissibili, e lo dico in tono non polemico, ma il nostro sistema sanitario nazionale non riusciva a farsene carico appunto di tutti i malati e di tutti i pazienti. Quindi la mission dell'associazione nasce proprio per questo, di farsi carico di tutti i pazienti e soprattutto dei pazienti e dei malati migranti. Ad oggi la mission è uguale, di fatti ci occupiamo di tutte le persone cosiddette vulnerabili, ovvero migranti per lo più, perché abbiamo notato che hanno dei problemi ad accedere ai servizi sanitari nazionali e in più ad adottare buone pratiche di prevenzione. Aspicollus è formata da un gruppo multidisciplinare, ovvero volontari, medici, antropologi e anche infermieri. Difatti siamo 11 volontari soci, 2 volontari non soci e più di 10 collaboratori esterni. Per quanto riguarda i progetti, abbiamo dei progetti in Africa, esattamente in Burkina Faso, dove cerchiamo di formare soprattutto gli operatori locali per contrastare sia l'HIV, quindi in totale le malattie sessualmente trasmissibili, ma anche la malnutrizione giovanile. Per quanto riguarda invece in Italia abbiamo sia antropologia in clinica, presso l'ambulatorio Misa Migrazione e Salute, e presso appunto l'ospedale Amedeo di Savoia. Questo prevede un lavoro interdisciplinare fra infermieri, medici e anche un antropologo per migliorare la compliance dei pazienti migranti, quindi far accettare di buon grado la terapia e il piano terapeutico in generale dato dal medico. Poi abbiamo il progetto Elisa, si occupa di Health Literacy, ovvero di alfabetizzazione sanitaria. Di fatti ci occupiamo di corsi, atti, volti che gettano luce alla prevenzione primaria, come la contraccezione, l'alimentazione o l'importanza dell'attività fisica, ad esempio. E i nostri corsi sono frequentati da donne per lo più africane, e c'è una metodologia alla base di tutto questo, ovvero noi diamo un pretest per capire quanto le donne conoscano della tematica trattata, poi a fine corso diamo anche un posttest, viene distribuito per capire se le donne hanno effettivamente capito e assimilato le nuove informazioni. Noi pensiamo che l'inclusione non può appoggiarsi al puro assistenzialismo, poiché l'assistenzialismo è un qualcosa che inizia, finisce e non è un qualcosa di concreto. Noi invece pensiamo che grazie alla Health Literacy, quindi all'alfabetizzazione sanitaria e grazie all'empowerment, quindi credere nella capacità di ogni individuo, possa portare a pari diritti e a pari opportunità. I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione!